Sono partiti il primo giorno di luglio i lavori di riqualificazione del centro di Fellette, un intervento organico che abbraccerà aspetti come il decoro urbano, la sicurezza ciclopedonale e la viabilità. Il progetto prevede infatti la creazione di un nuovo percorso ciclopedonale nell'area della chiesa. Si lavorerà su quella che è la pista ciclabile che arriva da via Nardi, che proseguirà fino davanti alla chiesa. Si riqualificherà tutto quanto l'incrocio che va da via Giovanni XXIII a via Manzoni. E si metterà a posto, quello che vedete alle mie spalle, il parcheggio che è all'intersezione tra via Giovanni XXIII e via Petrogheno. Nel piano è inserito inoltre lo spostamento con l'allargamento verso sud della carreggiata della provinciale, ma anche la messa in sicurezza dell'incrocio con via Papa Giovanni. L'altra parte del lavoro invece è sul lato sud della carreggiata, proprio perché la necessità di creare la pista ciclabile ci porta a spostare tutta la carreggiata verso sud e di conseguenza, come vedete alle mie spalle, ad abbattere un tratto del muro di recinzione della canonica e a sistemare tutto il parcheggio che è antistante la palestra Don Bosco. I lavori di riqualificazione salvo ritardi dettati da imprevedibili avversità meteorologiche saranno completati entro l'inizio dell'anno scolastico.